Deve essere un treno di rifornimenti. Viene a buttarsi in trappa! È la prima volta che vedo un treno di rifornimenti senza la scotta armata. Non hanno ragione di disfidare, si trovano nel loro territorio. Dove ha trovato il colonnello Miles? Nell'ufficio telegrafico. Nell'ufficio telegrafico? Sì, signor. Alla, di sicco, sai cosa devi fare? Portate quei cavalli a riparo! Via, col cazzo! Via, via! Da questa parte! Di qui, di qui! Bisogna rovesciare quel carro! Vatta con quelle male di tutti! Vatta con quelle male di tutti! Vorrei. Questa parte è il treno di ieri a destra. Vatta con ieri a chiamomitare, vatta con ieri a chiamomitare. Vatta con ieri a chiamarmi il cultivateabile. Allora, inquietate, vatta con ieri aικomitare! Allora, vac escola. Non dovete farvi vedere. Voi, andate là dentro. Fetto, fetto! Una pistola? No, non mi ha perduto. Vieni. 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 Volco! Non volevo questo. Ho cercato di evitarmi. Per questo ho scelto la medicina. Guarda quell'idiotto! Gianni! Gianni Maes! Che sta nel fuoco! Che sta nel fuoco!